Ragazzi, Giampytec, come al solito, mi ha lasciato da solo Compa, ma cacana minchia sfoguendo le porte E adesso gli facciamo uno scherzo Aspettate un po' la creative Sì, sì, dai Atomate, mi fai Proprio fai cacare, Giampytec Minchia, parlo, compa, che tu nel mio video di oggi hai detto Oh, ce l'ho fatto, succhimi il pisello bello peloso Vero, ho detto una cosa del genere Sì, che l'hai detto, compa Senti, ragazzi, corso, fruturo, chicks, murri E benvenuti nel tredicesimo episodio di Diversity E siamo sempre qui col mio amico del cuore Giampytec Io mi astengo da tutto Ma da cosa, dall'essere il mio amico del cuore? Sì Ma dai, voglio fare sesso Sì, come, compa Vai, prontissimo, Fono Ti prego, facciamo un bambino e lo chiamiamo Zeta Murri Tech Lo chiameremo 600 Allora, ragazzi, siamo rimasti veramente con pochissime cose da fare Arena, Labyrinthian, Puzzle e Boss Sbattolo, capirente, sarà il gran finale Oh, ma prima Considerateci qua sotto una nuova mappa da fare nella prossima serie Sempre se voi lo vorrete Bravo, è bravo, Giampy Perché ovviamente siamo Effettivamente siamo un po' agli sgoccioli Quindi cominciate a pensare una mappa epica come questa Quindi, non lo so Una CTM Una Una adventure Con vari, con vari sottolivelli Ecco, perfetto Quindi, Giampy, oggi che cosa vogliamo fare? Non lo so, oggi Mi sento Allora, Murri prima di iniziare proponeva Arena Però io proponevo Puzzle Con... non lo so, Murri, facciamo Facciamo Puzzle Così Perché ho deciso così No, perché voglio Arena Lo caricherò al prossimo video Se questo video arriva a 7000 like Perché Arena sarà veramente figo Oggi voglio bestemmiare un po' Murri Ma ho un déjà vu o sbaglio? È uguale al primo Diversity Ho un fottuto déjà vu tipo Che veramente O sbaglio? È uguale Ora ci perdiamo troppo tempo Perché in Diversity 1 Abbiamo perso tipo tre episodi Per fare questa cosa Dio mio Oh, che cazzo hai fatto? Non ho fatto niente, mannaggia Devo leggere qualcosa C'ho 6.000 co... Togglepillars Che cos'è questa cosa? Se che se la tocco ci teleporta Già, P, non sto capendo niente Non sto facendo niente Allora No, no This doesn't feel right This is supposed to be a sequel Qualcosa è in atto Ah, ci sono quattro... Il libro Sing this book with the title ab Firma ab Firma e chiudi Fatto Oh, fatto, guarda, visto Non mi... Non mi lasceresti mai, vero? Compari Ma chi minchia è che parla? Non lo so Eh, good C'è scritto Ma secondo me... Vabbè, vediamo allora Ah, coglione Dobbiamo firmare con int Se vogliamo un consiglio Ecco un frisbee Un frisbee Non so che cazzo è un frisbee Penso sia un indizio gratis La S gliene hai messa tu Però... Esatto Guarda le luci nel soffitto E cosa succede Se premi una pressure plate Le luci devono essere tutte spente Minchia che palle Qua dobbiamo spe... Bisogna premere tutte... Eh, figlio di troia Eh no, e dobbiamo spegnere... Eh, ma che sequenza usiamo? Minchia, ma questa qui come lo... Cioè, in base a cosa lo dobbiamo fare? Questa si è spenta? Allora, questa... Questa ala è spenta Fermo Dobbiamo spegnere questa però Se io clicco questa Questa l'accendo e quindi mi serve spenta Oddio, aspetta che io sto... Io sto facendo zitto, zitto Veramente, sono un hacker Veramente, oh Oddio Se clicchi andiamo accendendo sempre quelle più avanti Ok Ok, tutta quest'ala è al buio tranne... Eh... No, ok, questo corridoio è tutto al buio Ti penso qui Ok Ok, vai jumpy Questa sicuramente No, minchia, ripremila, ripremila Ok, perfetto Aspetta, adesso devo andare a premere questa Mi dispengono tutti Ok Che cazzo Devo spegnere questa Minchia, le ha accese tutte Ma non stai seguendo tu un ordine, giusto? Sì, voglio fare tipo... Faccio... Ok Adesso questa qui si dovrebbe spegnere Sì, è qui cazzi questa E invece no Perfetto Porca puttana No, questa si spegono Però con questa cosa si spegne? Spegne quella lì, perfetto Proprio non è che se non troviamo un criterio, no Adesso le ha riaccese tutte, porca troia Scusami, scusami, aspetta Capiamo che cosa... Cosa spegne ogni... Ogni pressure Forse spegne... Aspetta, adesso con questa Dove spegnere anche quella Ok Però con questa mi si accende qua Eh, infatti Eh, forse... Eh... Spegne quelle accanto Ti ricordi quando abbiamo fatto la cosa degli slime? Deve essere una cosa simile Che una pressure interagisce con quelle accanto Prova, fai una prova Allora, queste due tranne quella sopra Vediamo se mi spegne qua... Tutte quelle... Mi accende questa e mi spegne quella lì No No, me ne spegne solo una Sì, comunque cambia tutti quelli con cui tocca Guarda Lo peri firmare ogni volta Poi io sto continuando a fare così Ci do ogni volta un consiglio differente, hai visto? John Neglect Aspetta, ma abbiamo quattro indizi? Abbiamo quattro indizi per puzzle Vedi che tra poco te li sprechi tutti Sì, Jumpy è così Ogni pressure attiva tutti quelli con cui è connesso, capito? Eh, però questa qui no Ottimo, ottimo così, così L'ho fatto io Eh, aspetta, non premere questa perché se prendi questa... No, quelle del centro non le premere Quelle del centro non le premere Queste di qua dobbiamo iniziare Ok, ok No, 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 devi continuare sempre sulla stessa linea, Jumpy Guarda che è acceso quella di dietro Visto che è acceso questa Se io invece adesso tocco questa Spengo questa Eh, devo spegnere Oddio, guarda, guarda, guarda Eh, ma... Ok, ok, ho un'idea Se io clicco questa Ok Oddio, oddio, fermo, 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 Jumpy Allora Questa qui, questa qui, questa qui, aspetta No Ripremila, ripremila Ok, fermo, 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 allora È da testare No, no, ok, ripremi quella Perché te l'ho detto Ogni pressure accende quelle con cui è connessa Quindi se io premo questa Eh, se io provo a prendere Prova a prendere quelle in fondo? No, aspetta, ho fatto una minchietta di prima Ok, aspetta Sto scelto pazzo Allora Fermo, no, 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 no Allora, guarda Se io premo questa centrale Ne accendo, accendo tutte quelle con cui è connessa Quindi proprio questa è quella da non premere Mori, aspetta un attimo Se secondo la tua logica Se hai premessi questa Quella si deve spegnere Se hai premessi questa Quella si deve spegnere Se hai premessi questa Quella si deve spegnere Allora se devi seguire una logica giusta Sì, le stai accendo tutte quelle con cui ti tocca Dove ripremere questa E visto che non ha senso Sì, compa, è così L'hai portato di nuovo tutta a cazzo di cane Aspetta Riseguo la strada che ho fatto, cioè Allora, dobbiamo partire da quelle più esterne Dice che dobbiamo incominciare a spegnere quelle più esterne Vediamo se ce ne sono altri consigli in questa In questo coso Se hai perduto tre cose a una puzzle Ne hai spento un fottio Guarda, hai visto? Ha spento tutte quelle di fuori Guarda, tutte Tutte quelle di fuori le ha spento Io ho paura che adesso Ok, il primo misero l'abbiamo finito Sono dentro, Mori Dove sei? Mi sono amficato dentro a qualcosa Dove? Mi sta portando da qualche parte Eccomi, che cazzo? Ma che cazzo? Non capisco This is the puzzle branch This is not Cosa c'è dentro? No, ovviamente devi completare Allora, qua dentro sta cerco Ci sono È un puzzle Ci sono i pezzi del puzzle Che è praticamente una mappa Ma non l'hai finito di completare Ti provi col bustante Per il pulsante Per vedere se è giusto E secondo me l'angolo a sinistra Ne manca qualcuno Ah, certo Perché alt... Ah, ok Che cazzo hai fatto combaciare? Non hai combaciato un cazzo Sì, atto amato Guarda, po*****o Questo, uno Ma come li vai spostando i pezzi? Ah, li devi levare? Ok Aspetta, aspetta Aspetta, frena, frena, frena Ah, è un pezzo di torcia Zitto Prendi questo E questo Ok, perfetto Allora mi devi dare Questo Ok, lo metto qua Questo Ok E lo metto qua Ok, sì Ok E lo metto qua Metti i primi bordi Guarda, questo qui Giampi, questo al centro In basso Zitto, questo è il... Vabbè, figlio Pagliato tutto Quello non va là sopra Compa, testa di cazzo È il bordo Certo che va là sopra Ah, ok Non l'avevo Niente, lascia stare E questo pezzo che cosa era? Aspetta Ah, guarda Lo posso vedere Se non me lo metti in mano Io c'ho altri pezzi Allora, questo è un pezzo di... Guarda, Giampi Ti voglio fare a vedere una cosa Questo che ho in mano io Va sotto uno di questi due Perché guarda È un pezzo di torcia Vedi? Ok, compa Ma sei troppo forte Ma non penso Non so se vada qua O a destra Metti in alto a sinistra Dove c'è quel pezzo di redstone Capito? Ce l'hai preso tu? No, aspetta Compa, adesso li metto di nuovo tutti Solo così posso capire Quello con legge manca Ah, se questo qua in basso è giusto Guarda Il... Il secondo da sinistra in basso È giusto? Il rosso praticamente Esatto Anche quello sopra è giusto Non il rosso Quello sotto il rosso Allora anche quello sopra è giusto Perché guarda Se io sposto il rosso Rimano un pezzettino di bordo rosso Quindi questo qui è giusto Sì, è giusto Sei tranquillo Ora Metti ne... Esatto, esatto Metti... Cominci a piazzare Guarda, in questo Quello sotto le... Minchia, spaccavo pure un quadro Quello è giusto Capito? No, quello è un pezzo di quadro È proprio per mettere i... I cosi Capito? Dove ho appena rotto Dobbiamo far combaciare questo Ok, non è questo Prova un altro nero Ok, giusto Adesso fai combaciare Giusto Giusto Adesso quello accanto È giusto È giusto Ah, guarda Ne manca uno in alto Ne manca uno in alto Ah no Guarda Metti di spaccare tutto Mettine uno là sopra Questo pezzo potrebbe andare anche tranquillamente qui Questo Quell'altro nero che va qui Questo piece che va qui Mi stai facendo paura Mi sa che ce la stai facendo Io non voglio parlare assai ma E quest'altro che va qui È finito Ti prego Ti prego Ho capito Ho capito È semplicissimo Guarda Cazzo Sbagliato Così 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 Questa va qui Guarda che adesso è giusta come quel po' Guarda 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 che è giustissima Tirati che è giustissima Tirati di Jumpy 3, 2, 1 Ho detto Non combaciano questi sopra Oh, ok Ok Ecco Ecco Già potrebbe essere Deve andare per forza Qui Ok Adesso è giusto Ne sono sicuro Guarda Adesso sì Adesso potrebbe essere Mi gioco il penne Che me lo devo tagliare adesso Vai Sì Oddio Non ci credo Non ci credo